Attenzione, cerchiamo di ricavare il barco per lasciare esprimere gli attenti che stanno tagliando ora il traguardo con l'applauso, piano ragazzi, piano ragazzi, intanto attenzione, arriva Lorenza Menapaci. Non è il tuo primo campionato italiano, che emozione! È una grande emozione, sì, è il mio primo campionato italiano, sono veramente contenta, non pensavo di ottenere questo risultato ma ce l'ho fatta, anche perché il percorso mi si addiceva molto, perché io vengo dai Colli Romagnoli, quindi più o meno diciamo che si assomiglia molto dalle nostre parti, quindi ero abbastanza vantaggiata come percorso, mi è piaciuto molto, complimenti a tutti, all'organizzazione, veramente bravi. Cosa si prova a indossare questa maglia? Ancora non ho realizzato, ma sono veramente felice, anche perché lo facciamo a livello amatoriale, quindi si ritaglia il tempo tra il lavoro e i figli, la famiglia e il marito, e quindi è veramente una bella soddisfazione, sono veramente felice.